Leonardo Di Giorgio Revisore Dare respiro alla storia. Ma perché? La storia ha bisogno di respiro? I miei studenti la pensano così, eh? Me lo dicono sempre, spesso. Cioè, prof, cioè io la storia proprio non... Cioè, la storia è noiosa, non gli è mai piaciuta, è pesante. Quanti qui sarebbero d'accordo con i miei studenti? O conoscono qualcuno che lo sarebbe? Guardo quelli meno giovani, i figli, sulle mani. No, davvero? Ah, così pochi. Allora, vediamo se riesco a darvi una prospettiva diversa. In otto minuti vi racconto una storia. Zbigniew Precz, per gli amici Zbicek, ha 18 anni e il primo settembre del 1939 viene spedito dalla scuola militare che non ha ancora terminato sul fronte occidentale del suo paese, la Polonia, perché in quella data Hitler ha deciso di scatenare la Seconda Guerra Mondiale. Anche se non ci piace la storia, quelli che ho visto alzare le mani, forse lo sappiamo che il fronte cede subito, la guerra lampo. Zbicek viene fatto prigioniero, ma riesce a scappare ai nazisti. A quel punto si rende conto che non ha molti posti dove nascondersi, perché dall'altra parte, da Oriente, l'armata rossa sovietica ha iniziato una controinvasione. In pratica Germania e Russia si sono spartiti la Polonia. Allora lui decide di fare una cosa particolare, decide di attraversare il confine con l'Ungheria, montagne, vuol dire marciare a piedi giorno e notte, ininterrottamente tre giorni e tre notti nella neve, per arrivare in territorio neutrale e riunirsi con altri soldati che sono riusciti a sfuggire ai tedeschi, soldati di quell'esercito polacco esploso. Si ritrovano dall'altra parte e decidono di dare vita a un'unità militare, lo chiamano l'esercito per la liberazione della Polonia, che combatterà con le forze alleate praticamente su tutti i fronti della Seconda Guerra Mondiale. E proviamo a immaginarcelo, questo ragazzo di 19 anni, Zbicek, ma proviamo a immaginarci noi come eravamo quando avevamo 19 anni, o nostro figlio 19enne, o nostro nipote 19enne. Proviamo a immaginarcelo che decide di combattere una guerra che sembra finita, ma non è finita, che decide di combattere per la libertà di una patria che non vedrà neppure più, non toccherà neppure più per anni, lanciato in questo crogiuolo ardente che è il mondo impazzito della Seconda Guerra Mondiale. Proviamo a immaginarcelo. Proviamo a immaginarcelo combattere nel assedio africano del porto di Tobruk, 50 gradi all'ombra per settimane, o sotto le pendici del nostro Monte Cassino. E qui, chiunque abbia visto il cimitero polacco di Monte Cassino, almeno una volta, sa di che cosa sto parlando. Una distesa infinita, tragica, commovente di croci, migliaia. Allora, proviamo a immaginarcelo, questo ragazzo. Vi rendete conti che cosa fa 19 anni? Proviamo a immaginarci la sua storia, perché io non ho il tempo di raccontarvela tutta. Ne ho fatto un history telling. History telling è il nome che io do al modo che mi sono inventato per provare a dare respiro alla storia. E cos'è un history telling? Beh, è una cosa fatta da tanti pezzi. Io ve ne racconto tre, che mi sembrano essenziali. Uno l'avete già sentito. Avrei potuto raccontarvi la storia dell'esercito della Polonia Libera, inserendolo nella grande storia, quella con la S maiuscola. Avrei potuto darvi il numero dei soldati, le cifre sulle vittime, le date delle battaglie combattute. Ma ho preferito proporvi una storia con la S minuscola. Le storie con la S minuscola sono quelle delle persone vive, concrete, le persone che attraversano la storia e sono attraversate dalla storia. Sangue che pulsa nelle vene, sentimenti. Come ha detto un grande maestro, Mark Bloch, odore di carne umana. Il secondo elemento è sostituire la fredda e distaccata spiegazione con una narrazione che usi tutti i materiali disponibili. Io nei miei history telling uso canzoni, film, poesie, romanzi, musica suonata dal vivo, disegni fatti dal vivo. Qualunque elemento possa permettere di suscitare le emozioni che ci consentono di immedesimarsi, di immedesimarci in un tempo passato che inevitabilmente ci sfugge continuamente dalle dita ogni istante che passa. E poi il terzo elemento è appunto le emozioni. Come collante tra le informazioni che già abbiamo e che magari invece aumentiamo e ne conosciamo di nuovo attraverso un storytelling, un racconto. Come, passatemi il termine, un ricostituente per la nostra memoria. Ci soccorrono le neuroscienze in questo. Attenzione, io ho in mente degli studi di John Medina, ma ce ne sono anche altri, che parlano di ECS, stimoli ad alto contenuto emotivo. Detto più semplicemente, le emozioni suscitano attenzione e i fatti che provocano emozione vengono ricordati molto meglio. Ecco perché serve usare materiali di ogni genere. Come faccio a spiegare? Cioè, non funziona così con le canzoni, ad esempio. Mi aiutate, facciamo un esperimento tutti insieme. Provate a pensare al grande amore della vostra vita. No, sono serio, però aiutatemi, non è una domanda retorica. Scusate, siccome vedo gli sguardi preoccupati, non ve li chiedo e non ho intenzione di suscitare imbarazzanti incidenti. Pensateci, pochi secondi. Io sono sicuro che vi verrà istintivo collegare una canzone, una musica, a lui o a lei, no? Ma io me la ricordo, quella spiaggia e quella ragazza e quella canzone. E tutte le volte che sento quella canzone, pom, sono là. Potrei dirvi la data, l'ora, la luce che c'era, l'odore che si sentiva, il profumo dei suoi capelli. Ecco, gli storytelling funzionano anche con questi meccanismi. Meccanismi nuovi, rivoluzionari, per niente, guardate, lo sapevano già gli antichi per i quali la storia era fabula. Doveva suscitare voluptas, iucunditas, piacere, godimento, immedesimazione, divertimento. perché allora non piace? Perché si dice che non ha respiro? Perché? Perché ce l'hanno soffocata dentro, molto presto, quando eravamo bambini, con decine e decine di interrogazioni in cui ci è stato chiesto di restituire, di solito a memoria, dati e date, nomi di condottieri e di battaglie, che badate bene. Scusate, lo dico forte e chiaro, non voglio essere frainteso, la razionalizzazione e la verbalizzazione vanno benissimo, sono fondamentali, non vanno buttati via. Ma se mi chiedete se questo è il modo di dare respiro alla storia, beh, se devo essere sincero, no, credo di no. Il problema, capite, da questo punto di vista diventa abbastanza complicato, è per questo che quando qualcuno mi dice che la storia non gli è mai piaciuta, io rispondo che mente, magari senza volerlo, inconsapevolmente, ma mente perché in quel mai piaciuta c'è una piccola, grande bugia. Perché lo sappiamo tutti, tutti indistintamente, che non è vero, che c'è stato un tempo in cui la storia ci piaceva moltissimo. Non desideravamo altro che il racconto di un tempo in cui noi non eravamo ancora. E questo chiedevamo con passione. E chiunque ha avuto per casa un bambino, un figlio, un nipotino, o semplicemente chi si ricorda ancora com'era lui stesso o lei stessa da piccolo, sa benissimo che andava così. Perché com'è che andava? Dai! Nonna, nonna, dai! Cioè, ma com'è quella storia lì di quando dici che c'era la guerra e non avevate mangiare e tu e il nonno e c'era sempre buio alla sera perché non si poteva accendere la luce? Sì, lo so che mi fa paura, ma mi piace. Dai, raccontami, lo so che me l'hai raccontata un mucchio di volte, raccontamela ancora, ancora. Allora, se non ritorneremo come bambini, avremo perso la nostra partita con la storia prima ancora, prima ancora di giocarlo. Possiamo ricordarci come eravamo quando la storia ci piaceva, quando ci appassionava tutti noi che raccontiamo, voi che ascoltate. Ma più di tutto, andando via da qui, proviamo a ricordarcelo perché altrimenti quante occasioni infinite di voluptas, di piacere ci perdiamo. Si fa storia, ricordiamocelo, perché è bello farlo, perché c'è una bella differenza tra cercare di imparare una storia senza respiro e ascoltare storie che tolgono il respiro. Solo così la storia non diventa pesante e riacquista tutta la sua fantastica leggerezza. grazie 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 a tutti grazie a tutti